Ministro Lupi, però Milano, in città si fa fatica, è arrivata anche qua la crisi, le dura come diciamo a Milano. Sì, ma noi dobbiamo capire, ma vale per Milano, ma vale anche per l'Italia, che o costruiamo oggi, oggi il futuro di questo paese, o il futuro non c'è. Beh, ma guardi qui, vedi queste cose qui, questo è un nuovo quartiere che abbiamo fatto, City Life, e nasce oggi a distanza di 14 anni, nel senso che se non avessimo ripensato la città allora, oggi vediamo una Milano cambiata, ma non basta, non basta questo, perché le periferie come sono conciate, che speranza diamo agli artigiani, ai commercianti, e noi dobbiamo iniziare a cambiarla, Milano, ma dobbiamo iniziare a cambiare l'Italia, per cui concretamente bisogna iniziare a fare le cose, se no non ne usciamo più. Elezioni europee Si vota solo nella giornata di domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23. Nella circoscrizione nord-ovest, Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, barra il simbolo del nuovo centrodestra e scrivi lupi come preferenza.